Allora, è cominciata Maccabi Juventus da un minuto, la cronaca, crocevia fondamentale per la Juve. Subito Di Maria, aria di rigore, può andare Di Maria, prima minuto, si ferma Di Maria, non trova lo spazio per passare. Doveva tirare con la punta, col collo, in qualche modo ha avuto lo spazio, anche il Di Maria in aria di rigore, non ha trovato la prontezza per servire Vlaovic, non ha avuto nemmeno la decisione di calciare. Subito in porta, l'hanno segnato, l'hanno segnato, l'hanno segnato, l'hanno segnato. La rete incredibile di Azzili, numero 7, cos'è successo? Il traversone da sinistra salta. Io credo non reattivissimo Scesni, che va a lanciarsi sulla sinistra, si porta il pallone dentro, e l'intervento disperato, poteva fare sicuramente di meglio, sta di fatto che per la terza volta la Juve ha fatto saltare il giocatore in aria di rigore. E sono tre minuti che continuano ad attaccare, non stiamo giocando neanche stasera! Ma giocano palle a... Crosda da tre quarti di sinistra, leggibilissimo, tre del Maccabi al centro, difende male ancora la Juventus. Diciamo che è anche fortunato perché è un colpo di schiena più che di me. Colpo di schiena, di testa, e palla nell'angolo. Chi lo perde il giocatore? Dimmelo tu! Chi lo perde? Chi lo perde? Rugani! Perde un pallone sanguinoso, quadrado, 4 contro 3. Pierrot, il Maccabi, con Azzili, aria di rigore, tiro, gol! Incredibile! Impressionante anche la bellezza di questo gol, ha messo un pallone da fermo sotto il 7. Ma andate a casa, andate a casa, vergognatevi, andate a casa, andate... Però l'abbiamo detto... Cosa mettiamo a paragone? La dignità o lo stipendio alto? Ecco, non voglio andare... Però c'è una deadline, no? C'è una deadline tra il mantenere Allegri, anche perché c'è un progetto multimilionario, eccetera, e il dire non si può andare oltre. Siamo arrivati a non andare oltre o no? Serve altro? Ma già contro il monzo, Michele, eravamo già andati oltre. Stich da Locatelli, in versione playmaker, con il mancino, lancia lunghissimo, mette quadrado davanti alla porta, praticamente! No, no, no! Spinto! L'area di rigore! Spinto in area di rigore! Ma è una vergogna! Ma è una vergogna! Ma è una vergogna! Questa è una vergogna! Allegri incuria adesso, Allegri che si incuria! Questa è rigore nettissima! C'è il VAR perché... C'è il VAR, c'è il VAR! Quadrado era in vantaggio, stava preparando il destro e il contatto c'è stato. e ha impedito a Quadrado di calciare un po' bello. C'è due guys! Cosa deve fare? Lo deve investire! A due mani! Bianchi dice rigore tutta la vita, due mani sul giocatore, Pastorella? E sai che pensavo peggio? Secondo me non è rigore! Non l'ha dato! Bonucci per Quadrado, protegge il pallone caricato, alle spalle, fischio dell'arbitro, calcio di punizione. Io ti propongo al derby di andare a vedere un film insieme. Andiamo a vedere un bel film! Bello! Potremo anche... Fuga per la vittoria è andata via! Andiamo a vedere un film! Così! Ci divertiamo di più! Premio battuta dell'anno! Beh, ma ne faccio tante battute! Domani subito vi alleghi Montero? Sì! Sì! Immediatamente! Ok! Ok!